Salve a tutti e benvenuti in questo tutorial dove in questo breve tutorial andiamo a creare delle pagine web le pagine web innanzitutto c'è da definire un paio di cose non è tanto complicato l'importante è che si sappiano alcuni tag però si possono sicuramente classificare in due modi pagine web statiche e pagine web dinamiche tutti i siti che noi andiamo a trovare andiamo a incontrare nel web oggi per la maggior parte sono quasi tutte statiche sono quasi tutte dinamiche usano linguaggi abbastanza comuni o già sentiti però noi dobbiamo procedere in ordine questo è un tutorial che può avere un inizio una fine indipendentemente dall'interesse io penso che lo porterò avanti con calma piano piano in modo che tutti capiscano almeno un po' di cosette e per chi è interessato ci saranno anche i seguiti allora senza andare a perdere tanto tempo dopo questa brevissima spiegazione le pagine web le pagine web che cosa sono? sono sostanzialmente quello che noi vogliamo fare vogliamo che la gente quando guarda i nostri siti quello che noi vogliamo far vedere è semplice non è poi tanto difficile innanzitutto ci serve per cominciare per cominciare un nuovo un nuovo foglio di testo allora noi apriamo un documento che io ho il numero 2 perché ho un altro aperto a voi sarà un semplice documento di testo il vario edit o block notice dipende allora cosa possiamo fare? innanzitutto il linguaggio il linguaggio è l'HTML e cosa significa? che possiamo usare più di un linguaggio ma innanzitutto viene basato e costruito su un HTML e apriamo un tag il tag si apre con il maggiore maggiore e minore si apre e si chiude ok? quindi noi mettiamo prima il minore e dentro questo minore ci mettiamo HTML e poi lo chiudiamo questa si chiama tag oppure si chiama sintassi andiamo andiamo giù e cosa facciamo ancora? dobbiamo adesso abbiamo aperto la nostra pagina quindi tutto quello che noi vediamo e che metteremo qua dentro farà parte innanzitutto dell'HTML quindi l'HTML è l'intero foglio che noi abbiamo questo foglio giustamente può essere suddiviso in testa ok? quindi ci vuole prima una testa e quindi apriamo sempre il il nostro tag che da oggi lo chiameremo tag ok? e mettiamo la testa quindi head le head e lo chiudiamo dentro la testa maggiormente cosa si mette? si mette il titolo perché giustamente come tutti come tutti come tutto l'inizio ha bisogno del titolo qualsiasi libro la testa del libro è sicuramente un titolo allora apriamo di nuovo il nostro tag e ci metteremo dentro il titolo lo chiuderemo e noi dentro questo titolo vogliamo mettere questo è il titolo che noi andremo non a vedere in prima pagina ma poi lo vedremo e vi farò vedere allora il titolo il titolo possiamo mettere benvenuti benvenuti dopodiché per ogni apertura ci vuole una chiusura in modo che il nostro browser legga l'apertura che sarebbe il titolo e legga anche la chiusura perché sennò sarebbe sempre aperto e quindi lui avrebbe andrebbe a faticare nel leggerlo completamente allora dobbiamo chiuderlo in quest'altro modo questo si apre sempre il tag e con la slash ok con la barra lo andiamo a chiudere per dire prima me l'hai aperto ok adesso mi leggi il contenuto ok e adesso me lo chiudi e ma però cosa il titolo e lo chiudiamo fatto questo adesso dobbiamo chiudere la testa perché a noi non ci serve più dico bene quindi apriamo cioè non è che non ci serve più non ci serve più aperta quindi andiamo head chiudiamo e noi abbiamo detto al nostro al nostro browser di leggimi leggimi questa pagina di html ok mi leggi questa pagina di html dentro questa html io ho messo una testa ho messo una una testa un head l'ho aperta gli ho messo un titolo adesso tu fammi vedere il titolo ok nella testa e poi me lo chiudi per piacere e lui me la chiude perfetto e fino a qui ci siamo dopo la testa giustamente se noi presentiamo il nostro corpo c'è la testa ok dopo la testa c'è il corpo e quindi dobbiamo dire adesso body cioè corpo apriamo il tag mettiamo il body e chiudiamo il tag ok ora dentro questo body giustamente noi abbiamo il contenuto dentro il body quindi c'è c'è il cuore ci sono i vari organi e tutto quanto ora questo vogliamo mica lasciarlo bianco altrimenti risulterebbe in questo modo io adesso chiudo il body ok e chiudo l'html html ok e lasciamolo così perfetto allora lasciato così diciamo boh basta a me mi basta questo ora lo dobbiamo salvare come innanzitutto innanzitutto dobbiamo dire non in documenti di testo in txt ma come tutti i file come tutti i file io voglio nominare questo qui nominiamolo index perché ci è più comodo index però non basta perché index è basta ma tutti i file no dobbiamo 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 dire di punto dobbiamo dire come come e quindi come html allora lo salviamo e voilà eccolo qua ha cambiato già un po' la faccia non è più un documento di testo eccolo che sarebbe questo ma è un documento che di browser di 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 quindi cosa succede se io lo apro ora lo apro ecco che mi apre la mia pagina internet semplicemente bianca però vedete qua sopra con scritto index con scritto benvenuti quello che noi abbiamo scritto nel nostro block notice il benvenuto lo andiamo a riportare in alto a sinistra benvenuti ora chiudiamo questa pagina cosa vogliamo dire se noi vogliamo dargli un po' di colore la pagina bianca allora apriamo il tag di body sempre una pagina di body gli diamo uno spazio e noi vogliamo vogliamo farlo un po' colorato e quindi facciamo un bg color uguale apro le virgolette e facciamo color oro gold chiudo le virgolette e chiudo il tag lo salviamo ce lo sarà dove ce l'ha salvato non lo so vediamo un po' voilà ecco il colore ce l'ha salvato nella nostra pagina questo è fin quando noi apriamo questo qua ok perché noi ce l'abbiamo aperto ma niente di più semplice se noi lo chiudiamo chiudiamo questo apriamo invece che con il tasto sinistro lo apriamo col tasto destro e facciamo apri con eccolo qui apri con il bloc note ora così messo in questo modo mi sembra un po' abbiamo dato abbiamo aperto un html abbiamo aperto la testa dentro gli abbiamo messo il benvenuto abbiamo aperto un corpo gli abbiamo dato un colore però adesso dobbiamo dargli un titolo ok e il titolo secondo me ci serve quindi cosa significa che noi da qui possiamo sempre aprire il tag con un h1 con un h1 lo chiudiamo e gli scriviamo cosa gli possiamo scrivere? benvenuti a tutti benvenuti a tutti a questo punto a questo punto dobbiamo sempre e ricordiamoci sempre con aprire il tag slash di chiudere tutto quello che noi apriamo altrimenti il nostro browser andrà in palla e lo chiudiamo lo salviamo sempre in questo modo e lo apriamo vediamo cosa è successo voilà benvenuti a tutti un po' restrittivo però io direi che è già un buon inizio è ovvio che questo documento non lo potrà vedere nessuno per il momento ma solo voi ok? quindi questa è una pagina di documento è una pagina di di html di html che vedrete solo voi infatti se voi vedete il percorso qua sopra ok? è il file eccolo qui ok? è file slash slash c due punti documents per cento 20 setting eccetera 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 ok? quindi lo vedrete solo voi ma quello per mettere nel browser ci passeremo molto più avanti comunque andiamo a a riguardare la nostra pagina giustamente gli abbiamo dato un colore gli abbiamo detto abbiamo dato un benvenuto a tutti è povero questa cosa qui quindi non ci piace chiudiamo il tutto è tutta a sinistra non è bello quindi davanti ok? anzi io direi che a questo punto possiamo anche fare in questo modo ok aspettate ok fatto questo facciamo lo dobbiamo un titolo così messo in questo modo non ha nessun senso allora noi apriamo il tag e ci mettiamo center cioè adesso questo me lo devi centrare dopo di che chiudiamo il tag di center e lo salviamo salva vediamo cosa ci ha fatto eccolo qui bello ora è centrato bene è proprio centrato una bella pagina con scritto così però anche questo io direi che facciamolo così e lo salviamo ok secondo me è più bello viene molto più bello vediamo un po' eccolo qua è già è già bello vi piace? perfetto allora cosa diciamo? diciamo che abbiamo imparato queste tre cosette per poter creare la nostra prima pagina HTML per chi lo sapeva già le nostre innumerevoli pagine HTML ok per il momento con questo tutorial è tutto ci vediamo alla prossima e continueremo seguitemi in tanti e continueremo a creare pagine in HTML ok buona navigazione a tutti e ciao ciao a tutti